Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Giuseppe Roccasalvo e vi parlo per conto del portale visionforex.info Oggi andiamo a trattare di un titolo molto interessante per quanto riguarda il Fuzzi Mib 40, si tratta proprio del titolo Ferrari Ha davvero senso comprarlo ai prezzi attuali? Vi dico la mia subito dopo la sigla Giovanni Tamburi in uno dei suoi ultimi libri ha catalogato Ferrari utilizzando tre aggettivi molto interessanti Il primo è Mito, il secondo è Lusso e il terzo è Tecnologia Beh sì, come dargli torto, Ferrari è proprio un'azienda di lusso, anzi tanti la considerano proprio un'azienda di extra lusso Paragonabile ad altre aziende importanti come potrebbe essere Bugatti, Lamborghini e così via Tra l'altro molti si chiedono anche quando arriverà poi la quotazione di Lamborghini che la tratteremo sicuramente all'interno del canale Ma andiamo a vedere un po' il conto economico, come voi sapete per me è fondamentale per fare investimenti ottimali nel medio e lungo termine Utilizzare anche l'analisi tecnica Partendo però da uno studio del bilancio della società, uno studio anche basico ma comunque uno studio del bilancio della società Andemola a vedere assieme Se andate a guardare proprio sul grafico in sovraimpressione vi rendete subito conto di come il fatturato relativo all'ultimo trimestre del 2020 È leggermente in calo rispetto al fatturato relativo all'ultimo trimestre del 2019 Noteremo però come il profitto netto relativo all'ultimo trimestre del 2020 è peggiormente superiore al profitto netto relativo all'ultimo trimestre del 2019 Questo ovviamente che cosa ci lascia pensare? Se il profitto netto è superiore e il fatturato è inferiore sicuramente l'azienda ha portato dagli importanti per quanto riguarda i costi aziendali Infatti così è stato, se voi guardate proprio nel grafico in sovraimpressione nel bilancio relativo proprio pubblicato all'interno dell'azienda Ferrari Nelle ultime settimane vi accorgerete di come i costi relativi alle vendite, i costi generali e amministrativi del 2020 Sono leggermente inferiori rispetto ai costi relativi al 2019 La stessa dinamica la si tratta per quanto riguarda i costi di ricerca e sviluppo che anche in questo caso risultano leggermente inferiori Ecco, motivo per cui alla fine il profitto netto del 2020, dell'ultimo trimestre del 2020 è leggermente superiore rispetto al profitto netto dell'ultimo trimestre proprio del 2019 Un altro dato molto importante è la percentuale del net profit, saranno da guardare proprio in sovraimpressione, è del 19,3% Nettamente superiore alle percentuali di altre aziende dello stesso settore Questo sta ad indicare che la società ha un ottimo margine di profitto, cioè riesce a vendere a un prezzo molto più alto rispetto ai costi di produzione Elemento da non sottovalutare Andiamo adesso ad analizzare proprio le fonti di profitto, da dove guadagna l'azienda Ferrari Come potete notare, confrontando sempre l'ultimo trimestre relativo al 2020 con l'ultimo trimestre relativo al 2019 Sicuramente c'è stato un incremento per quanto riguarda le vendite di auto 81,8% 2020 contro il 77,3% relativo al 2019 Qualcosa però è cambiata, il covid comunque ha impattato sulle sponsorizzazioni commerciali del brand Infatti si nota come le sponsorizzazioni relative al brand, ad attività commerciali di altro tipo Siano calate di oltre il 30%, passando dal 14,8% del 2019 al 10,5% relativo al 2020 Da qui insomma cerchiamo di capire, tra l'altro un dato molto importante guardando sempre il bilancio È il calo delle vendite di auto nel sud-est asiatico Questo sarebbe anche un altro dato da approfondire a 360 gradi Detto questo abbiamo un po' analizzato quelli che sono i bilanci dell'azienda Ma se andiamo a guardare anche gli ultimi dati pubblicati da YouFinance Ci accorgiamo di come, sia guardando il trimestre, sia guardando l'annuale Sia il fatturato che i ricavi sono in crescita negli ultimi 4 anni Al di là, l'unico dato negativo è il secondo trimestre del 2020 Dove il covid è chiaramente, come dicevo prima, leggermente impattato in modo importante Sui ricavi aziendali che si sono poi ripresi proprio nel corso del trimestre successivo Andiamo a vedere un po' i pro e i contro Per me sono fondamentali per capire se investire nel lungo termine su una società oppure no Tra i contro sicuramente un price earning alto Price earning alto dove appunto gli investitori si aspettano una possibile crescita progressiva Importante del fatturato nei prossimi 4-5 anni Ma trattandosi di un'azienda di lusso che ha una produzione limitata di auto Intorno ai 10.000 unità e al momento non ha grandi prospettive di crescita Per quanto riguarda nuovi segmenti L'elettrico siamo ancora lontani dalla presentazione di alcune auto total electric L'ibrido è parzialmente ibrido, abbiamo un solo modello Anche se, attenzione, tra gli aspetti positivi vi è la presentazione potenziale di un nuovo SUV nel 2020 Che potrebbe incrementare in maniera importante il fatturato proprio dell'azienda Ferrari nel corso dei prossimi anni SUV che tra l'altro ha incrementato il fatturato di alcune aziende che lo hanno prodotto Come ad esempio Lamborghini Quindi questo potrebbe essere un elemento sicuramente positivo Andiamo adesso a fare un'analisi tecnica del grafico Così come piace farlo a me Io parto come trader Quindi cerco di collegarmi quella che è l'analisi fondamentale con l'analisi tecnica Per avere, come dicevo prima, un timing il più corretto possibile Per minimizzare la perdita e nell'ottica di un investimento a lungo termine Massimizzare quelli che sono i guadagni dei miei appunto investimenti Come potete notare dal grafico ho tracciato una semplice linea di supporto dinamico Una trend line di supporto dinamico che collega i minimi del 2016 con i minimi del 2018 e i minimi relativi al 2020 Ho notato una cosa però molto interessante Vedete il trend è chiaramente rialzista I massimi e i minimi di periodo del titolo Ferrari sono sempre crescenti Quindi un trend al rialzo Questo è un grafico ovviamente settimanale Ho notato però una cosa interessante Guardate dopo una prima fase di run up, di rialzo importante Il primo minimo di swing relativo all'11 dicembre 2017 Il mercato lo ha rivisto dopo aver generato un nuovo massimo importante Con una flessione a ribasso significativa Vedete qui la freccia mostrata che mostra il ribasso Che ci ha riportato sul supporto dinamico Eravamo proprio nel 2018 Nuova fase di slancio del mercato Nuovo minimo di swing Nuovi massimi per quanto riguarda il febbraio 2020 Ancora una correzione che è andata a rivedere il minimo di swing Poggiandosi sul supporto dinamico Oggi ci troviamo nella stessa identica situazione Mercato che ha generato un nuovo massimo Nuovo minimo di swing Nuovi massimi importanti Quindi la probabilità che dai prezzi attuali Possa non solo tornare sul minimo di swing precedente Ma appoggiarsi intorno ai 164-165 Che è il nuovo supporto dinamico del tempo Che potrebbe avere il titolo Ferrari è molto alta Motivo per cui se uno mi chiedesse Compreresti Ferrari dai prezzi attuali? La mia risposta sarebbe no Nonostante un'ottima società Nonostante un'ottima azienda Per me è fondamentale Non comprare i massimi dell'azienda random Senza avere delle regole ben specifiche Ma comprare con un tempo corretto Comprare un tempo corretto Mi permette di Come dico sempre io Minimizzare le perdite E massimizzare i guadagni Quindi con questa analisi Avete visto dove secondo me Potrebbe essere interessante Qualora volessi investire sul titolo Ferrari E qualora il mercato mi dia dei segnali chiari A rialzo Comprare appunto Ferrari Diversamente I prezzi attuali non li comprerei Anzi se il mercato mi dovesse dare un segnale ribassista Con piccoli stop Valuterei nel tempo Nelle prossime giornate e settimane Un ribasso interessante Che lo possa accompagnare Ai prezzi Che secondo me Sono dei prezzi a sconto interessanti Per un'azienda di lusso Così importante Se ti è piaciuto questo video Ti invito semplicemente a cliccare like Così da far crescere il nostro canale a 360 gradi Ti chiedo anche di dirmi la tua Cosa ne pensi tu del titolo Ferrari Commentando il video qui sotto Inoltre all'interno della descrizione Vi ho inserito anche quello che è il canale Telegram Dove pubblico tutti i miei video Così che se ti possa far piacere Basta un click per essere sempre aggiornato Su tutte le mie prossime novità Io ovviamente ti ringrazio per l'attenzione Ti auguro una buona giornata E alla prossima Hai trovato la nostra diretta interessante? Iscriviti al nostro canale YouTube Attiva le notifiche E resta sempre aggiornato Su tutte le nostre news Grazie e buona giornata Grazie a tutti